è immensa tutto quello che tu puoi dire rispetto a lei non ha confini contemporanea e rivoluzionaria sempre a poco più di 40 anni dal suo ultimo concerto rai 3 dedica una serata speciale alla regina indiscussa della canzone italiana pino strabioli conduce in arte mina lunedì alle 21 e 20 rai 3